Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Ebbene, oggi è arrivato il mio momento, nel senso che questa mattina è uscito l'NV di Yu-Gi-Ohm, dei GOT7, se vi seguite, e è uscito il suo videoteaser, e si intitola Fine, e non sono pronta mentalmente a questa cosa. Sto male, perché se già gli altri erano assurdi, degli altri componenti, non voglio immaginare. Lui, visto che è il mio bias, e non sono orrenda questa cosa. Sono da sola oggi. Proprio quando mi serve il sostegno, io sono da sola. Va bene, non mi fanno. 3, 2, 1, via. Così? 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 Così ci sono brian canh niente così. Così? Così non lo vedo. Così lo stesso. Così? Oddio Stavo Blancate questa cosa Così Cosa 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 Oddio È finito Vai via la vita Via sparisci Via via Lì mangio la copertina Oddio Oddio Cosa ho appena visto No gente Ok sapevo che era mostruoso perché Ho detto spoglia Ma non avevo visto come era preso Maledio No la cosa Non so commentare Stavo È Bellissimo E la canzone Stendiamo un velo pietoso sulla canzone Perché Da quello che ho sentito non va bene Non va per niente bene questo stile Lui che balla non va bene Lui in sé non va bene Quindi Cosa Cosa sono quei movimenti Vai fuori Fuori via show Vedremo quando Uscirà la canzone per intero Che schifo di canzone sarà Viene stato bello soffrire da sola Un minuto e sei Un minuto e sei c'è durato meno degli altri Non vorrei dire grazie È sembrato il più lungo della vita Fatemi sapere che sotto se seguite GOT7 Se vi è piaciuto il tuo MV teaser O se vi sono piaciuti anche gli altri ovviamente Fatemi sapere se il vostro bias Avraccano quello che volete E basta noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao